Hollywood, arriviamo! Che sorpresa! Ciao, papà! Ciao, Rusty! Facciamo una vita monotona. Dobbiamo darle una scossa. Andremo a Wally World. Che cosa? Questa è proprio una stronzata. La vacanza a Wally World è stata la più bella della mia vita. Quindi vorresti rifare una vacanza che hai fatto 30 anni fa? Sarà totalmente diversa. Nemmeno sapevo della vacanza originale. Non ha importanza. Quella nuova sarà una cosa a sé stante. Ok? Voi siete i Griswold, vero? Sì! Sono qui per rispondere a ogni tua domanda. Cos'è una Nellinguus? Suppongo che sia quando baci qualcuno tenendo la bocca chiusa. Ah, sì? Usi il contorno delle labbra. Non sei troppo grande perché tuo padre ti dia la Nellinguus della buonanotte. Questo viaggio è quello che ci serviva. C'era un buco nel muro del bagno. A quanto pare hai trovato un buco del piacere. No. Va bene, ripartiamo. Non capisco perché vuoi tornare a Wallyward. Sorgente termale. È magnifica. La chiameremo la sorgente Griswold. I minerali di questo fango faranno uscire le tossine dal vostro corpo. Non mi sembra una sorgente termale. Una freccetta. Sei impazzita. Tutte fuori dalla sorgente Griswold. Ehi, ciao. Mi assicuro che abbiate tutto quello che serve per la notte. Il telecomando funziona così. On, off. Piuttosto ovvio. Certo. Ok. È venuto qui solo per far vedere gli addominali. Un po' di musica. Um, 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 um.